Il Camarina riparte da Concetto Salone. Dopo la positiva esperienza di Mister Marino, la formazione di calcio a 5 di Santa Croce Camerina si affida ad uno staff dirigenziale totalmente rinnovato. L'obiettivo è disputare un campionato di vertice. Ho accettato questo incarico dopo una sosta di tre anni con grande entusiasmo, fortemente voluta dalla dirigenza di cui io ringrazio e dal nuovo presidente. Devo dire anche per tutta la cittadina e i tifosi perché francamente meritano una gestione del genere. All'inizio ero un po' perplesso a prendere le redini in mano, però francamente rinunciare alla panchina del Camarina è come rinunciare alla panchina di una grossa società professionistica. Quindi non potevo assolutamente, i tifosi l'hanno voluto e per questo io mi ributto di nuovo in gioco. Che Camarina dobbiamo aspettarci nella prossima stagione? Ci saranno dei cambiamenti, novità oppure una conferma in blocco di tutta la squadra dello scorso stagione? Diciamo che il gruppo storico che ci ha seguito già per diversi anni viene confermato, è stato già riconfermato e quindi l'ossatura della squadra si presenterà pressoché allo stesso modo degli anni precedenti. Il fatto di inserire tre elementi nuovi ci stiamo lavorando sopra, c'è un mercato ancora abbastanza aperto e come dicevo prima avete voi scritto nelle testate giornalistiche perché siamo ridosso sul versante Ipparino e quindi molto probabilmente abbiamo a riprendere nuove da vettoria e sul ragosano, sulla sponda ragusa cercheremo di prendere un grosso rinforzo di un pivot che comunque si è saputo distinguere negli anni nel nostro campionato. Si tenderà quindi di riconquistare questa C1 che ormai da Santa Croce manca da tanto tempo e quindi un campionato di vertice? No, diciamo che i presupposti per fare un campionato di vertice ci sono sempre, non è un nostro obiettivo finale quello di arrivare in C1 anche per via traversa diciamo così ma è chiaro che la piazza di Santa Croce merita un campionato regionale del genere di cui già i tifosi e la cittadinanza hanno avuto modo di apprezzare e quindi credo ce la metteremo tutta per arrivarci. Il Cessica Marina in questa stagione sarà protagonista come lo scorso anno o avete altri progetti? No, le nostre ambizioni rimangono sempre uguali, ogni anno cerchiamo di fare un roster competitivo abbiamo già una buona base fatta da ragazzi che militano nella nostra società da diversi anni quest'anno stiamo andando a cercare degli elementi per completare il roster pensiamo di fare un buon campionato come fatto gli altri anni. Le previsioni dicono che la stagione che verrà sarà una stagione molto importante per questa società sia dal punto di vista tecnico che anche dal punto di vista societario visto che è considerato che avrete un nuovo sponsor, uno sponsor carattere nazionale. Sì, stiamo lavorando per cercare nuovi sponsor, non solo uno perché noi siamo una piccola realtà che naturalmente ha bisogno di questi sponsor per andare avanti abbiamo individuato alcuni sponsor che più avanti confermeremo dopodiché vediamo come si chiuderà andiamo avanti così Si chiude il ciclo marino e inizia quello salone, cioè riinizia Hai detto bene, riinizia, si chiude il ciclo marino sottolineando che il mister marino rimarrà con la nostra società perché si è trovato bene, noi siamo una famiglia Dopodiché riinizia il ciclo salone, fondatore del CS Camarina da 17 anni a questa parte molto carico per il nuovo reincarico, diciamo così comunque tutta la società sta lavorando per affrontare la nuova stagione nel migliore dei modi Ciao 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 Ciao